Il 2015 è andato in archivio come l'anno più caldo della Terra, raffrontando le temperature medie per l'Europa il 2015 al secondo posto dopo il 2014, ma in Liguria è ancora il 2015 a piazzarsi in vetta la classifica come anno più caldo mai registrato. Da record alla temperatura più alta, misurata a Davagna, in provincia di Genova, a 467 metri sul livello del mare, lo scorso 7 agosto, quando la colonnina di Mercurio fece registrare i 40,9 gradi centigradi, nuovo massimo in Liguria da quando esistono le misurazioni ARPAL. Nello stesso giorno anche i 40,6 gradi centigradi di Castelnuovo Magra, che dopo tre anni consecutivi perde il titolo di località più calda della regione. In provincia di Savona si trova invece il luogo più freddo del 2015, si è trattato di Valzemola, 480 metri sul livello del mare, dove mercoledì 28 gennaio il termometro era sceso a 10,8 gradi. Se il 2014 era stato uno degli anni più piovosi di sempre, il 2015 invece è stato avaro di precipitazioni, con la sola provincia della Spezia a superare il metro d'acqua caduta dal cielo. Il giorno più piovoso dell'anno è stato martedì 16 giugno, con l'idrometro di Fiorino a Genova Voltrica misurato 302,8 mm in 24 ore. Lo scroscio più intenso è stato invece quello di Cabanne, in provincia di Genova, dove fra l'una e le due della notte di lunedì 14 settembre sono caduti 124 mm, pari a oltre 2 litri d'acqua al minuto per metro quadrato di territorio.